La Universal Hall di Skopje, la sala da concerto dedicata da 36 paesi alla ricostruzione della capitale macedone dopo il disastroso terremoto del 1963, è stata completamente distrutta da un incendio martedì. Grazie alla pronta reazione dei vigili del fuoco, il rogo è stato contenuto e non si è esteso al quartiere circostante, né ha causato vittime. Solo due persone sono state ricoverate per l'inalazione del fumo. Secondo gli inquirenti, con tutta probabilità l'incendio è stato causato dall'impianto elettrico che non è mai stato sostituito in 50 anni.